Signora Schuster, signora Schuster! Sì, faccia attenzione, è stato lui, è molto pericoloso. Vada lui, Rex, vai! Non è possibile, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. No! No! Maia, sedenti laggiù. Mettiti in seduta. Seduta, oddio. No! 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 Dammi del tuo, e si un po' più amichevole. Sono venuta volentieri, guida te. Di che sei contenta di stare con me? Sono contenta di stare con te. Grazie. Grazie. Di che posso rimanere nel manicomio fin quando voglio? Puoi rimanere nel manicomio fin quando vorrai. Sì. Di che non ho fatto niente di cattivo? Non hai fatto niente di cattivo. Dillo di nuovo. Non ti credo. Non hai fatto niente. E adesso di... Di che in realtà mi ami. In realtà ti amo. Ora di... Riccardo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.